Lo sviluppo economico di un territorio parte dalla conoscenza e dalla cultura. La provincia di Barletta-Andreatrani e l'Università di Bari stringono accordi e promuovono politiche e strumenti per favorire l'occupazione. Il protocollo d'intesa mira al potenziamento dell'alta formazione, alla valorizzazione delle risorse storico-artistiche attraverso per esempio la promozione di laboratori ed iniziative di valenza scientifica. Organizzeremo dei corsi sul territorio sicuramente post-universitari innanzitutto e cercheremo di agevolare, di creare opportunità di partecipazione a questi corsi in modo tale da diffondere sempre più preparazione e cultura della professionalità che oggi manca molto spesso soprattutto al sud e per aiutare i giovani a diventare ottimi imprenditori, ottimi professionisti e soprattutto inserirsi con grande capacità nel mondo del lavoro. L'Università, dice il Rettore, non può rimanere chiusa nelle proprie stanze. Come si concretizza la presenza dell'Università su questo territorio? Stiamo già individuando attraverso strumenti attuativi le azioni concrete. Pensiamo soprattutto ad alcune attività post-laurea, master e anche nella versione più snella dei cosiddetti short master e poi soprattutto anche studiare i bisogni, quindi una struttura permanente anche per analizzare i bisogni dei territori e sostenere questa domanda di innovazione che soprattutto su quest'area è molto forte anche per la vitalità e la vivacità economica dell'ABAT.